buongiorno ragazzi è un casino aspettate chiudo il rock eccoci ecco i clicchi buongiorno buona mattina bellissimi ciao ciao belli un po' di ritardo attenti io leggo 10.00 chi è che l'ha scritto? il signor senza sub broker erano le 10.00 quindi non c'è nessun ritardo sbagliatissimo non c'è nessun capo io stavo facendo un ripassino tra l'altro che ieri l'ho detto anche a Gianlu si ma poi l'hai guardata l'appuntamento partiamo con ragazzi sigla no si giusto sigla dopo ne parliamo ma zitto si c'è sigla rovinata Marco Giuda no dobbiamo facciamo finta subito rovinata non puoi replicare quel che è stato replicando scusami rovinata ragazzi è andata ragazzi porca miseria vabbè Gianlaki Gianlaki ragazzi io faccio così chi è? ma perché? non lo fare troppo esagerato eh sì però oggi tra l'altro come leggete nel titolo mini maratona per Final Fantasy 16 come sapete in teoria termogiornale corto per dare spazio probabilmente oggi ce ne sarà un pochino da parlare invece ma vedremo non so di cosa ti riferisci eh c'è un po' di cose tra una cosa e l'altra oggi è un pochino se le cose ne intendo non ha senso parlare ne l'abbiamo visto io no no le cose ne intendo in generale non credo ci sia nulla un sacco di cose beh vedremo un sacco quando dice così non c'è nulla però partiamo vedremo partiamo subito con la rassegna stonca allora è pochissima dove eravamo vediamo un po' rassegna stonca sono tre notizie eh ma perché oggi sono Minecraft quindi allora top al vagisil partiamo con la notizia di bambino luigino sì che a quanto pare il sottomarino scomparso ha utilizzato un controller per pc logitech da 30 euro nel 2010 tra l'altro per guidare sì ragazzi ne parlavamo ieri anche nel gruppo sabb non è una novità io vi ricordo che è subito la notizia è che i nuovi sottomarini nucleari americani sono guidati dai controller xbox eh ma quelli di adesso vabbè che c'entra comunque ho capito fa notizia al fatto che costi 30 euro ed è un petto del 2010 era proprio dell'xbox vabbè ma comunque vabbè in proporzione alla fine sottomarini nucleari di un miliardi di dollari usano quello nuovo giustamente però era terribile con due cazzoni stampati in 3D due capezzoni e non solo anche i droni usati anche adesso nella guerra che c'è adesso vengono usati da quello però cazzo usavano anche la Steam Deck tra l'altro cioè quanto è allora Steam Deck è capibile come cosa perché la Steam Deck la usavano per controllare i droni perché la Steam Deck è un portatile letteralmente quindi si sta ma usare per un coso ufficiale un joypad di una console consumer perché è semplicemente ottimo perché è testato da migliori di persone quindi è stata letteralmente testata da così tante persone da renderlo perfetto per il tuo lavoro non è testato per questo poi ovviamente avrà qualche modifica però le modifiche di questo sono due cose attaccate con l'Attack no perché ad esempio per i sottomarini americani non lo usano per guidarlo lo usano per controllare il periscopio questo era per guidarlo proprio mi sa vabbè non lo usa per quello che ma tra l'altro a proposito di questo sottomarino ho una notizia in più vabbè non si sta trovando entro le 11 finirà l'ossigeno quindi c'è un poche speranze purtroppo però c'è però una sega però è uscita la notizia di un ragazzo tedesco di un signore tedesco che ha partecipato alla spedizione del 2021 del Titan e ha detto che già loro avevano avuto un botto di problemi erano partiti 5 ore in ritardo avevano avuto un sacco di problemi elettrici ma perché e quando erano vicini al relitto dei pezzi del sottomarino si staccavano e venivano su cioè proprio quindi non è che fossero proprio non era neanche approvato non era neanche approvato si sapeva che era una merda ma addirittura cioè io non avevo capito fosse un sottomarino microscopico è piccolino cioè non pensavo fosse il sottomarino quello di Nemo di 30 milioni di sottimare però è effettivamente un sottomarino piccolo ma tra l'altro non hanno neanche questi obblò grandi no ma non era era così piccolo proprio nel senso che non avevano il posto a sedere dentro loro è una barra di metallo grande per tre persone cioè addirittura dall'obblò poteva vedere una persona alla volta a turno perché è così piccolo è piccolo piccolo sì 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 non è uno di quelli tipo Suri aveva fatto un video che era stato in un sottomarino è andato sotto quello lì era molto più grande c'erano gli obblò tutti potevano guardare questo qui era cioè praticamente davvero da casa ti guardi le foto il video andava bene cioè non quello e c'erano cinque persone dentro comunque appunto già in quel viaggio lì avevano detto che era tutto una merda e quindi sono voluti partire guarda in oggetto senso anche se non si dovrebbe dire sono quasi contento ma più o meno contento tra virgolette ma non mi dispiace che tra le cinque c'è proprio anche il capo di questa cosa perché con tutto quello che ha fatto visto che da quello che si è uscito ha licenziato in tronco uno che aveva detto delle critiche e così ha licenziato in tronco poi dopo questa quale gli ha fatto causa semplicemente sono messi d'accordo con soldi ma quindi ammettendo che era tutto una merda ma sono andati anche lo stesso si va bene i turisti purtroppo i turisti si sono affidati io in realtà spero per loro che siano implosi hanno detto che c'è questa possibilità sì spero che siano morti subito piuttosto che cinque giorni così te pensa stare lì dentro muori lentamente cinque ma non hai neanche detto che avessero neanche il cibo sufficiente a parte il cibo sufficiente ma io poi muori dopo due giorni non per stenti ma muori da sfissia no ma muori anche però lo sai quello è il problema perché non è che l'ossigeno sparisce subito lo senti che comunque inizia a calare poi sparisce sì è vero probabilmente svieni prima di morire probabilmente da altre robe hai finito? c'è anche la questione del freddo sì probabilmente non so se è riscaldato non so come funziona lì dentro poi dove cacchio è andato scusami deve essere terrificante tutto deve essere comunque continuiamo prima svieni e poi muori però comunque te ne rendi conto non è una cosa immediata comunque boh sì speriamo che quantomeno non soffrano non abbiano sofferto se è davvero già imploso l'unica è quella se non è imploso sicuramente ha sofferto picc'altro ha sofferto psicologicamente perché lo sai che stai andando a morire per 5 giorni spero per loro siano implosi sì quello sì comunque boh davvero ma io lo dicevo Franci poi ha fatto notizia il fatto che costasse 250.000 euro ma io neanche gratis andavo ma io sott'acqua ecco guarda piuttosto andrei a fare quei voli spaziali quelli che fanno più che andare sott'acqua andrei più quelli in aria sott'acqua proprio a parte che già non so lotare quindi già perché ho il terrore dell'acqua quindi chissà se è più no sono pericolosi entrambi se ci vuole più no però ci vuole cioè per andare nello spazio tra virgolette adesso ci sono i voli turistici adesso che costano uguali però ci vuole comunque dell'addestramento no 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 no? no c'è tipo quello lì che ha fatto lì Brenzo tra l'altro quello tipo il il ricone che c'era nel sottomarino tipo era uno che da quel che avevo non lo so stangerando di tutte quelle voci è uno che aveva già fatto il volo con è normale Joker con Musk nello spazio per dire ci ha soldi ci ha provato li prova tutti tra le due io proverai più quello nello spazio anche perché visivamente è anche più bello cioè vai a vedere la terra dall'alto sott'acqua non vedi un cazzo sono mezzo d'accordo cioè sott'acqua non vedi nulla non farei né uno né l'altro però sì no se dovessi scegliere tra le due farei quello in aria tra le due sì cioè sott'acqua le uniche robe che poi cioè le robe belle da vedere sono fuori portate metti just chatting uh ho messo Final Fantasy eh infatti gli da già che no più che più che tanto sott'acqua piuttosto andrei in quelle a pelo d'acqua tipo andrei a vedere la barriera corallina che sono un paio di metri tre metri massimo dieci metri ma io ti ripeto non andrei in queste condizioni che siete è un'azienda tra virgolette privata non così famosa ha fatto pochissimi test cioè io avrei mi chiamato ma io più che altro andrei veramente nello spazio cioè andrei a vedere la terra dall'alto quello sarebbe andrei al mare vabbè però se dovessi scegliere se dovessi scegliere andare nello spazio potessi andare cavolo subito è fighissimo per vedere la terra dall'alto così se devo morire preferisco farlo vedendo la terra da un punto che non ho mai visto nessuno piuttosto che il buco esatto non è che non voglio andare per morire no però se dovessi sei obbligato a scegliere e sai i rischi che comunque sono alti in entrambi andrei nello spazio subito più che andare sott'acqua a non vedere nulla tra l'altro probabilmente saranno al buio perché che cazzo di notizia si sarà finita con la corrente probabilmente da Tom's Hardware prossima notizia è Apple si è bevuta il cervello vuole registrare tutte le mele per il fatto non so se l'aveva moletta ieri del che aveva ha fatto causa a un'azienda che aveva una mela oppure il bagno ce l'hanno oppure è un un'ulteriore coso che vogliono effettivamente registrare come marchio tutti i tipi di mail esistenti bestia la maggior parte sono in Italia quindi cioè non la maggior parte però tanti sono in Italia parte che non credo possa in generale perché in teoria il marchio registrato funziona che non è che deve essere poi uguale no ma aspetta loro vogliono proprio fare come marchio registrato tutte le mele del mondo ma non so se cioè detenere i diritti di tutte le mele mondiali non possono anche perché sono già registrate a meno che non compri la melinda credo che sia marchio registrato già a prescindere ma non c'ha il logo di una mela ah loro solo quelle con il logo si no loro vogliono registrare il logo vogliono fare il marchio registrato una mela sicuramente la melinda ha una mela in realtà la m è una mela però va bene non è proprio la classica mela della apple è una m tonda se mi danno se mi danno 100 milioni di dollari va bene prenditelo cambio simbolo grazie Dani no sei tu che glieli devi dare se lo registrano grazie bello se l'ho registrato prima io scusami no se è chiaro per esempio se lo detengo io se lo detengo io il logo non lo detiene chiaramente grazie Max grazie Max Marlene appunto non ha una mela ha una specie di c'è scritto su Tirol con una sorta di montagna una sorta di montagna hai detto no non è c'era la R anche su Tirol no ma il problema appunto è tutta una roba poi c'è il marchio registrato e copyright ci sono tutte robe diverse però comunque il fatto del marchio registrato era cioè te non puoi non è che devi registrare tutti i tipi di marchi delle mele e robe del genere basta che sia anche simile e non va bene poi non è che devi registrare no ma infatti poi dicono che ci sarebbero problemi anche se uno fotografa una mela potenzialmente perché tecnicamente è quello che vorrebbero fare però non ma a parte che non è quello cioè non credo sia quello che vogliono fare comunque no però se lo fanno e poi tecnicamente per legge così non credo possano farlo perché sono cioè tu non puoi registrare il marchio di una cosa non originale comunque almeno mi pare e quindi ci sta una percentuale di similitudine sì cioè non so adesso la percentuale non credo sia matematica perché la percentuale poi la deciderà tipo un giudice o qualcosa del genere però cioè non è che puoi decidere cioè comunque ci vuole un umano a decidere cosa è simile e cosa no quindi a determinare la percentuale comunque animali letali che non ti aspetti avresti mai detto che le lumache uccidono più squali che cocodrilli più squali più di non so più di squali più di squali e cocodrilli più di squali e cocodrilli più che l'italiano 20.000 dicessi minchia non dici perché perché ci saranno quelle super velenose tipo da qualche parte e saranno più numerose la classifica penso che tutti più o meno la sappiano le prime sono le zanzare le seconde sono i serpenti i terzi i cani poi c'è le lumache bugs cos'è o insetti assassini non so cosa sei generico la muscazze si poi vabbè cocodrilli a 1000 vermi tapeworms vermi vermi nastro cos'è tapeworms non lo so poi c'è l'ipopotevi 500 gli elefanti 500 però c'è da dire anche che c'è meno probabilità che magari vai vicino a un elefante e uno squalo le lumache si trovano effettivamente un po' di più in giro poi ok tapeworm e l'atenia ok 100.000 dai serpenti è tanto grazie david l'atenia è dalla carne vero di solito mi ricordo i tenia ci si ammalavano ai tempi perché mangiavano la carne cruda comunque c'era il verme solitario 100.000 moschitos che quindi sono zanzare belle aggressive perché pertoportano le malattie loro quindi probabilmente intendono quello trasmettono una malaria poi parla ma poi i moschitos non è come le nostre zanzare che ti pungono una volta poi vanno a farsi un giro ti pungono tipo 20 volte se sono lì in zona poi i serpenti 100.000 anche 30.000 cani eh vabbè ci sta perché ci sono tanti cani e tanti padroni di merda comunque il ristorante assume finto prete per estorcere confessioni ai dipendenti e punirli lo puoi fare non puoi beh davanti al tribunale è finito il caso ha condannato il datore il dipartimento del lavoro degli stati uniti ha condannato il datore che ha fatto questo poi credo tu possa farlo ma non per estorcere confessioni dipendenti anche perché in teoria poi le confessioni del prete dovrebbero rimanere tra il prete e il no ma certo però non c'è una legge è una legge della chiesa ma non credo c'è una legge però comunque non puoi farlo perché hai mentito tu hai ragazzi un prete per restorcere informazioni per fare la spia per fare il detective scoperte migliaia di auto elettriche ammassate in un campo in Cina cos'è successo c'è un video ma non lo guarderemo stando alla denuncia di sterze le vetture avrebbero tutte regolare targa ma allo stesso tempo sarebbero tutte nuove di zecca con ancora le plastiche interne intatte ah allora l'idea è che le aziende abbiano immatricolato le auto per mostrare al governo centrale un numero di vendite superiore a quello reale e ottenere così corposi sussidi statali quindi hanno fatto finta che le hanno comprate tutte le hanno buttate lì cioè piuttosto che buttarle mettile in qualche concorso o roba del genere per avere sussidi hanno fatto finta che erano tutte comprate eh vabbè fai qualcosa magari costa comunque creare un'auto elettrica quindi l'altro non sono neanche auto piccole cioè sono SUV porca miseria tutte uguali è tosta come hanno fatto a non vederle prima tra l'altro c'è pure dei palazzi dietro non so comunque si volevano i sussidi la vicina di posto in aereo allunga il piede senza scarpa il tiktoker si vendica versandoci sopra una bibita il video è virale anche voglia di vedere il video bene maturità 2023 Imelda Starnini fa l'esame a 90 anni grazie Alessandro Momagno grazie Alessandro sognavo di fare la maestra mia zia me lo proibì un cruccio di quel diploma mai preso grande Imelda può farlo eh sì fondamentalmente sì 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 beh è figo dai figo 90 anni è passata anche in mezzo alla guerra quindi voglio dire complimenti 90 anni non è facile adesso magari la boccia non è che non c'è scritto che l'ha fatto bene devono ancora finire gli esami allora poi di solito se fai non so se sia mai successo che uno viene bocciato quando viene già messo agli esami di solito come no di solito al massimo viene bocciato prima no no viene bocciato anche d'uovo voglia non ho mai sentito nell'autografia uno non ho mai sentito chiaramente è molto raro è molto raro sei uno stronzo se ti fai bocciare però però voglia se succede massimo ma io ho mai sentito quando ho fatto la maturità nessuno era stato bocciato a 0,2% di bocciato all'esame pensavo di meno però 0,2% non è tantissimo è poco comunque naturalmente una volta che vieni ammesso sei proprio uno stronto se vieni bocciato almeno un minimo poi dipende dalla scuola cioè da me al professionale se venivi bocciato agli esami e perché proprio lo facevi apposta lo facevi apposta sì anche perché se vieni ammesso all'esame vuol dire che lo fai al vitis invece era difficilotto lì cioè lì ci stava comunque sì infatti poi con i punti che c'erano molti passava solo la presenza e avevi già la sufficienza per essere passato eh dipende dalla scuola sì quello sì moglie divorzia dal marito dopo la diagnosi di tumore ai testicoli ma non ha rimpianti non sono una persona orribile magari non l'ha fatto per quello allora ha raccontato che con lui dopo la diagnosi c'è stata comunque per cinque anni solo che ormai tra lui che ormai era rassegnato la vita e tutte le cose che diceva dovevano essere fatte perché stava morendo e quindi un pochettino se ne approfittava secondo lei ovviamente e poi lei amava desiderava avere i figli e dopo oltre a questo sono sommate tutte le cose e la lascia sì 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 ma indubbiamente non so se è morto no non ho capito non ho letto tutto l'articolo credo vabbè auguriamo una lunga vita tutti e due dai comunque la formula 1 costretta a cambiare le regole per colpa di Neymar quello che ha fatto non va bene che cazzo ha fatto Neymar è entrato a bordo pista mentre le macchine passavano non si capisce aspetta quella era a guardare ah ok quando è partito il giro di ricognizione quello prima di gara lui era ancora lì sulla pista è un po' pericoloso a parte che gli hanno dato il via al giro di ricognizione non lo avevano dato esatto perché non l'hanno fatto levare dalle palle scusami fatte sì c'erano troppe persone in griglia in alcune regole ormai è una bolgia ci vedono anche quando fanno vedere l'immagine non si riesce neanche a passare talmente tanta gente c'è ma anche i meccanici riescono a lavorare più che altro metti caso che una macchina un attimo sbandava li prendeva tutti faceva strike è già successo alcune volte quindi che regole hanno cambiato semplicemente probabilmente faranno accedere meno i VIP oppure li fanno uscire molto prima li fanno uscire molto prima dell'inizio sì sarebbe quella la cosa da fare vabbè stop a Diffrit dice Vector sì aspetta che gli mettono un embella emot del bambino che piange quindi si prosegue con un po' in tema eh Marco no laggo perché ragazzi ma dove eri fidata mi va tutto a scatti che mi è partita la pubblicità grazie Zesty grazie Zesty era da molto che non passavo ma oggi come stai è tornata lei è tornata Arcadia oh attenzione è l'estate allora abbiamo hanno provato un po' di giochini fa caldo hanno provato un po' di giochini e hanno fatto la recensione di Final Fantasy Moro la vuoi sentire la recensione di Final Fantasy no neanche io lo voglio sentire solo che Metacritic è uno dei più alti degli ho visto ho visto dei voti vuoi sapere almeno il voto non mi ricordo qui era 8 e mezzo 8 e mezzo il voto di Multiplayer ho visto un 9 ho visto una merda vuol dire tra l'altro hanno perché sotto dicevano ma quindi adesso come funzionano i voti in realtà Multiplayer adesso li fa per difetto a meno che deve dare il 10 quindi fa per eccesso come è successo a Zelda gli altri sono tutti per difetto quindi l'8 e mezzo equivale tra l'8 e mezzo all'8,9 quindi potrebbe essere anche un 8 e 9 dei vecchi punti no no non so è sicuramente una merda comunque 88 su Metacritic buono buono allora però ci sono effettivamente hanno dato 4 pro non te li leggo però hanno dato 4 pro e 4 contro quindi un bel po' di roba da dire ce l'avevano allora un contro no 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 gli egzaro non glielo dire no 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 semplicemente per me un contro non è un contro sta leggendo lo stesso ma non sto dicendo qual è quindi non rompete le palle poi la gente se va a vedere capirà se per me è un contro non è un contro perché lì dipende dai gusti come al solito se me lo ricordo li leggiamo a fine live comunque ho riguardato Marco il trailer di Super Mario RPG così perché ieri mi sono riguardato un attimino anche gli annunci di Nintendos no però mi ha preso l'appia al vintage cioè sapendo che è un remake un pochino non so se avrò mai voglia di giocarlo però un pochino mi ha preso il vintage a pilot ci sta ci sta vediamo cos'altro c'è hanno provato anche il gioco di Bud Spencer e Terence Hill che è il 2 tra l'altro si e gli hanno dato cioè il voto ovviamente hanno messo un unico dubbio che è qualche dubbio sul feedback dei colpi però hanno messo poi tre certezze che è pieno di citazioni gustose le musiche degli Oliver Onions e si picchia molto vabbè il gioco molto ignorante divertente immagino hanno provato The Book Walker Thief of Tales che era l'avventura del vabbè adesso non mi ricordo che l'abbiamo visto ma non mi ricordo dove assolutamente comunque gli hanno dato 7 e mezzo quindi non è però nei pro c'è trama intrigante quindi segnatevelo segnatelo magari può interessarvi hanno provato Sonic Origins Plus e gli hanno anzi l'hanno proprio recensito gli hanno dato 8 gli hanno messo nei pro adesso potete giocare nei panni di Amy Rose e di Knuckles anche in Sonic questo è il secondo e di Knuckles è il secondo pro e come terzo c'è ci sono anche 12 titoli del Game Gear questi sono i pro nei contro c'è tutto il resto lo conoscete già che non è un contro come al solito che non sapevano cosa mettere hanno messo questa gag ma praticamente non hanno messo contro gli hanno dato 8 comunque come per dire ci sta poi in realtà la news di ieri è l'aumento appunto del Game Pass di 1 euro e dell'Xbox di 50 euro solo della serie X però della serie S no al costo della Sony un'altra notizia importante a quanto pare Mark Zuckerberg accetta un cage match contro Musk hanno deciso dove quindi si faranno a botte ragazzi non so va bene va bene va bene l'aumento di Xbox l'abbiamo parlato ieri durante è aumentata la console e ha aumentato il Game Pass di 1 euro quello dell'Xbox quello dell'Xbox non quello del Game Pass del PC si no il Game Pass PC rimane uguale sul serio non penso cioè non lo so cioè si però non credo che lo facciano per davvero c'è scritto che non è clickbait non ti pare vabbè ma lo faranno no spettacolo nel metaverso sì però è la cosa più sensata al Vegas no al Vegas Octapon che è un posto nel metaverso ma lo sapevo che l'unico sottomarino con equipaggio che può raggiungere eventualmente il Titanic è di proprietà di Gabe Newell di Valve cioè l'unico sottomarino in grado di arrivare con tutto l'equipaggio eccetera fatto bene nei pressi del Titanic magari usa lo Steam Controller lui può essere è quello che ha usato anche James Cameron non lo so non so se James Cameron è andato giù lui o solo le persone James Cameron è andato nelle fosse delle Marianne comunque per carità è andato giù tantissimo anche lui no le fosse Marianne sono 11.000 metri no ma non credo l'abbia fatte tutte però non lo so non credo lui è stato lì un bel po' a studiarsi le correnti se per registrare cosa era dato lui fisicamente o solo con le telecamere non mi ricordo Cameron Cameron ma Cameron è andato lui è andato lui con tutto il suo staff poi chiaramente c'erano tutte le cose del caso eventuali soccorsi eccetera però si è andato lui ma è un pazzo Cameron le cose del caso allora fammi scorrere passando il Nintendo Direct vabbè è diventato già un meme Mario Elefante vabbè sono già meme di qualsiasi cosa a me piace un sacco è Giorgione Marco è Giorgione è vero a me piace tantissimo è Giorgione a me piace davvero tanto è carino con gli occhi azzurri panzone a me piace troppo è carino ma vaffanculo Marco è bello perché è stupido è carino è carino è puccioso ma non è puccio è Giorgione ma come puccio c'ha gli occhiettini con tutte le dalle è bellino smettila ma non mi smuovete è fighissimo io prendo l'amiibo se esce ti ho detto sarà così se esce l'amiibo probabilmente però salva da naio ci sarà non ci sono altre notizie ho capito che poi si ritrova sì c'è Annapurna che ha caricato 8 video privati sul canale youtube in vista del 29 che farà il suo showcase quindi ci saranno 8 annunci 8 video 8 trailer smettila a me starfield a 30 fps su xbox xxs potrebbe avere senso dice l'analisi c'è stato un'esplosione di bombole di copium ovviamente vediamo perché sono sì l'illuminazione globale le altre tecnologie di rendering utilizzate dagli sviluppatori difficilmente possono essere gestite a più di 30 fotogrammi al secondo vabbè non fatelo però sto guardando altre notizie a ieri mi sono guardato un po' di carte un po' delle carte di magic del signore degli anelli per bene gli Arthur sono proprio carine alcune proprio belline altre meno no 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 cioè quelle fighe sono proprio fighe altre dici ok ci sta io ho visto quella che c'è tipo non so se è una carta ma quella di copertina con Frodo e Gollum quella lì è tipo bruttina secondo me non ho presente a me è piaciuta tanto quella di Galadriel penso sia la mia preferita quella puzzle enorme cos'è la cos'è la mappa quella puzzle enorme ce ne sono un po' in realtà puzzle perché è la mappa della terra di mezzo no? quella delle terre eh ma per quello perché ce ne sono un po' che fanno puzzle anche perché è un modus operandi abbastanza comune a me è piaciuta tantissimo Galadriel ciao eh Sam mi è piaciuto parecchio mi è piaciuto parecchio anche nonostante sia completamente diverso da come te lo aspetti anche Legolas la carta è fighissima anche se è abbastanza standard perché è un arciere quindi ma cos'è la coglione Memis va bene ormai è romana eh no però è una bella espansione magari se trovo giusto il mazzo quello base me lo prendo così giusto per averlo magari imparo a giocare a mezzo no per imparare a giocare a mezzo ti installi non credo il gioco su pc poi ma in realtà è facile anche il gioco su pc imparare le basi non è così difficile era pure carino è molto più difficile Yu-Gi-Oh secondo me no no Yu-Gi-Oh si Yu-Gi-Oh è un po' più difficile ma con le nuove no no con le nuove carte e un troiaio tutto il troiaio mi sa con le robe io ti giuro ho preso in mano Yu-Gi-Oh le ultime volte non capivo una mazza con tutte ste carte metà magia metà un'altra cosa e metà questo metà quello mamma che palla una volta difesa attacco trappola e che dà giù basta adesso tutte ste cose che devo stare lì a studiarme non ce lo voglio ci sta in realtà da 15 anni però mi fa strano ma ragazzi è per l'inclusività le pendulum esatto bastarde le pendulum non sono neanche così belle alcune si ma non tutte comunque parliamo di secret invasion parliamo un attimo di secret invasion vai Yu-Gi-Oh finisco la notizia qui c'è stata un'intervista del direttore di Lies of P che ha detto che prima dell'uscita lavoreranno o stanno lavorando sul perfezionale sistema di lock i movimenti del protagonista la gestione della telecamera lavoreranno anche sul movimento sul migliorare la resa degli impatti e quindi anche sui movimenti dei boss dei nemici daranno più spazio cioè cureranno meglio il tutorial visto che la gente che magari non ha giocato ai souls magari non sa come muoversi e poi miglioreranno ancora dal punto di vista grafico e ridurranno i tempi di caricamento ok si più che altro movimento e robe spero che migliorino un pochino la rotolata che è quella che era più visibile era quella un po' più no tosta da digerire però dai se lavorano queste cose probabilmente lo rimanderanno quindi un pochino certo certo quello ci può stare un rimandino ormai è scontato a settembre ma spero che lo rimandano per novembre un rimandino ce l'hanno tutte le case ormai lo rimandano a novembre che che cazzo lo gioca a settembre c'è tanta roba settembre ottobre settembre e ottobre sono proprio caldi caldi nel suo genere è comunque uno dei pochi che esce penso si però ma poi gli va incontro a uno che magari ama quel genere ma magari un fan di spider-man o comunque anche un giocatore normale dice boh spider-man o super mario bros wonder no spider-man no tra quello preferisco spider-man cioè se mi metti spider-man e le cose nintendo preferisco spider-man comunque sonar e secondo entrambi lo stesso gioco no no sonar eh lo so ma infatti spider-man ha la precedenza ma più che altro spider-man ce l'ho nel cuore proprio a livello fumettistico saghe che ho letto da piccolo o da grande cioè non si può scegliere qualcosa spider lo faccio io credo di aver voluto no vabbè ma farlo in live la prima live la faccio volentieri poi però non so se lo faccio armare tutto in live l'ultima cosa è che sarà muffita la playstation in live in live credo abbia più senso fare Mario che spider-man tipo sicuramente eh forse sì spider-man anche perché spider-man lo vorranno giocare tutti giocheranno per i fatti loro cioè un conto è Miles Morales che durava 5-6-7 ore lì l'ho finito l'ho finito tutto quanto in live ma se no vi conviene giocare poi in quei tempi neanche nessuno aveva la playstation 5 quindi non era così facile giocartelo Miles Morales e l'ultima cosa è che Roblox ha come si dice accettato vabbè comunque ha permesso la creazione di contenuti per un pubblico esclusivo dai 17 anni in su quindi possono fare giochi per adulti sostanzialmente Roblox sta facendo un sacco di roba di Roblox sapevo dicevi stavo aspettando e pornazzi su Roblox che schifo posso dire va bene fai la partita di calcio è figa sono emicamente minorenni penso siano tipo horror e cose del genere sì anch'io ho pensato più agli horror sì sì va bene però hanno fatto partite di calcio intere eventi sportivi hanno fatto un sacco di rob sì un sacco di Roblox certo finito Luca sì e allora Luca cosa mi dici di come si chiama Secret of Vision dai Luca dimmi la tua vai essendo la prima puntata non è che ho molte idee sembra interessante ma finisce lì per me già il fatto che non mi sono rotto i coglioni no non facciamo spoiler ragazzi mi pare e io raramente raramente no con le ultime che erano uscite fuori già dalla prima puntata mi accorgevo che erano una rottura no niente spoiler era una rottura di coglioni questa qui mi ha tenuto tutta la puntata poi io non mi ricordo tutti i collegamenti magari che già hanno detto che ci sono delle incoerenze eh mi devono spiegare un po' di cose le devono spiegare sicuramente ci saranno dei twist allora c'è un twist che è così palese che non sarà quello lì adesso non lo dico perché non voglio fare spoiler però come puntata però era invadenza ah questo era bestiale ragazzi c'è ragazzi era proprio con lo sfiato vi rendete conto se provo ad aprire la finestra perché si crea un forno ragazzi io non posso lavorare se no cosa succede cioè io non so davvero che fare un asino caraglio veramente questo era gigantesco lo sai che ho pensato subito a Mario Elefante era un barrito era lui era eh bambino capito tienila lì la macerare comunque no mi è garbata poi c'è questa questione della sigla sì la sigla è stata fatta interamente con una IA perché la Marvel hanno pochi soldi ragazzi ma hanno detto che cioè è fatto apposta io allora io ho letto prima di guardarla ho letto online e vedevo tanta gente che gli era piaciuta e tanti che dicevano ma chi se ne frega l'importante è che il risultato lo porta a casa sono andato a guardare a me è fatto cagare dico la verità posso capire che sia forse talmente strana che a qualcuno poi prenda come tipo di cosa secondo me t'ho detto io uno che non sa come funzionano le IA che non non sa quali sono i difetti che vengono fuori facendo le immagini con l'intelligenza artificiale non se ne accorge eh ma era totalmente asetica non c'erano non si capiva niente l'unico era un pochino Samuel L. Jackson e Tetra quello ok però si vedevano un sacco di personaggi a volte che prendevano proprio l'immagine come protagonisti ma erano cose generate a caso non erano personaggi veri cioè una certa ci vede una ragazza di spalle con i capelli lunghi non è nessuno questa persona però c'ha un'intera un'intera degli interi secondi lei perché la IA chissà che cacchio è andata a prendere ma non è nessuno questa persona oppure ogni tanto si vedevano delle persone che stavano lavorando a qualcosa con una specie di di coso della polizia ma non questa cosa non c'è cioè non esiste questa cosa poi all'interno boh mi sembrava tutto a caso quella sensazione di qualcosa che non è non è qualcosa che si è abituato a vedere non è confuso non lo so spiegare per esempio la sensazione di sì 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 quello sicuramente ti dà quella sensazione strana ma anche cioè loro hanno detto l'abbiamo fatto apposta perché dobbiamo per dare quella sensazione di queste di questa confusione di non saper chi hai davanti gli scroll che si metamorfano le cose così però è una paraculata del cazzo cioè perché non so quanto spendono per fare una sigla non penso che spendono un milione di euro no esatto non è che poi gli mancano i soldi per fare una sigla non credo che l'abbiano fatto quello che dicevo io ieri non è che l'hanno fatto perché non avevano i soldi o non avevano i disegnatori la marvel però ragazzi hanno disegnatori storici però è stata proprio un'idea del cazzo questo che ha fatto per come si dice non galoppare cavalcare l'onda delle young sì per cavalcare l'onda delle young per far parlare di sé sicuramente l'hanno fatto esatto schifo io comunque io comunque ovviamente non approvo questa cosa qua ma proprio a livello etico io non ce la faccio vabbè ma guarda a livello fosse tipo eh Fabio che Nobit c'aveva fatto proprio ai primi prima che diventasse tutto il marasman lui aveva fatto un video musicale fatto con l'IA però era apposta per per essere fatto con l'IA proprio perché andava a vergere su quel fatto lì però un conto lo fa Fabio no profit su un social senza cioè un no profit un conto lo fa è la marvel come la sigla di una serie tv di cose del genere quindi sono d'accordo ma poi tra l'altro in questo Secret Invasion qui è fatto con l'IA in questo Secret Invasion qui ci sono le copertine prima di ogni capitolo fatte dal signor Gabriele dell'otto no che ha questo stile qui no e ci sta tantissimo perché ti nasconde il volto dei personaggi ti fa capire che sono scroll e ha usato questa cosa molto molto figa secondo me potremmo usare Gabriele dell'otto cioè anche banalmente diciamo Gabriele oh eh sì ma Luke ascoltami a me non me ne frega niente cioè sei la marvel perdi un sacco di a te non gliene frega a loro sì però ma no non gliene frega neanche a loro ma sono pieni di soldi e non stanno azzeccando niente non credo hanno sempre sottopagato tutti i loro disegnatori hanno sottopagato tutti gli effettisti non gliene frega a loro perché non gliene frega di una sega vogliono fare lavori pressa pochisti e questa è la verità io non credo l'abbiano fatto per risparmiare cioè ma questo magari l'ha fatto davvero per cavalcare l'onda questo magari l'ha fatto davvero per cavalcare l'onda però comunque arriviamo da notizie di lavoratori sottopagati addirittura al limite dello schiavismo effettisti presi a culo e gli fanno fare i lavori di un mese e mezzo cioè stiamo parlando comunque di un'azienda che sta facendo merda che poi bastava fare di fare bastava prendere un disegnatore e dirgli fai un pagare la lista questa cosa del non è etico non ha senso vai spiegaci perché spiegaci perché fai una prendere un disegnatore e dici fai una sigla in stile IA perché deve essere gli spieghi come deve fare e ma non ti uscirà mai con un IA perché anche se cerchi di farlo uguale non è fatta da un'ora è vero però sicuramente ti uscirà sempre più sensata più fatta meglio probabilmente sicuramente ma cioè il fatto che se spiegavi il mood comunque cioè era proprio brutta la sigla il fatto è quello io non trovo un motivo per cui fare questa cosa qua è anche tutta storta perché c'ha i difetti delle IA cioè vedi proprio i classici marchi delle IA e io non trovo un senso logico in questa cosa qua se non o quello che dice Luke che ha senso cavalchi l'onda la gente parla di te ti spammi in questo modo la serie oppure per fare dei lavori pressapochisti pigri anche se sei pieno di soldi fai cagare per me se fai questa cosa qua fai cagare perché c'ha i disegnatori con i contro cioè veramente dei disegnatori pazzeschi ma vuoi togliere quelli ragazzi nuovi magari non vuoi chiamare Gabriele Dellotto non vuoi chiamare i tuoi vecchi disegnatori chiama dei ragazzi che lavorano hanno fatto scuole per arrivare lì dai lavora queste persone qua ma non è sforzati per fare delle cose fatte a modo non è quello ma guarda di soldi di robe semplicemente perché volevano farlo per no ma questa è l'unica spiegazione valida infatti questa del cavalcare l'onda è l'unica spiegazione valida perché altrimenti è una merda sta roba qui beh lo zesti fammi fammi la mano del telefono cioè se continuiamo così davvero io capisco perché poi ci siano sceneggiatori che scioperano disegnatori che scioperano perché si sta perdendo proprio l'autorealità della cosa l'autorealità delle cose in generale così anche perché poi un'IA non è mai controllata a dovere e vengono fuori delle vaccate perché tipo a me sta siga mi ha fatto ribrezzo in alcuni punti poteva essere interessante perché c'era quel verde quell'atmosfera cupa ma in altri momenti ripeto c'erano dei soggetti che non c'entrano niente non è che allora cioè se gli artisti veri rubano allora l'IA va bene però eh cioè sono sbagliate entrambe le cose bisogna condannare ogni A certo condanni entrambi è che un artista non puoi dirgli che rumo perché ti dice mi sono ispirato a questo l'IA si ispira anche lui ma non c'è non ha modo di ispirarsi comunque mi è piaciuta la spiegazione che hanno dato a questa cosa del non etico è una cagata allora andiamo avanti con io non ho detto la mia ma non importa perché vabbè io penso come Luke l'ho trovata interessante però sono una persona mi reputo una persona intelligente e so anche lo storico della Marvel e quindi so che magari la prima puntata è anche interessante poi andiamo su tutto altri libri la cosa che mi è piaciuta tanto al di là della puntata in sé che appunto è interessante perché la tematica è proprio interessante adesso sto anche rileggendo il fumetto proprio per visto che ieri io e Gianluca ci chiedevamo delle cose anche se le abbiamo lette tutte e due perché non ci ricordiamo perfettamente ho detto do una rilettura veloce partono proprio in due maniere diverse nel fumetto è proprio improntato sui supereroi qua è sulla gente sui governi no c'è Russia America è tutta una cosa diversa è anche interessante più spionistico alla portata di tutti ecco lì è più sui supereroi che anche forse è anche più figo per quello nel fumetto la cosa che mi è piaciuta tanto è la bomba alla fine cioè non mi aspettavo mi aspettavo una roba del genere non me l'aspettavo sul finale della prima puntata quindi questo mi ha stupito molto per il resto vediamo perché non sono stupido quindi ma cioè sì ma per altri motivi va bene e allora stop al videoludo e il geeking va bene diamo la linea a Luca questa volta preso ragazzi prego almanaccami oggi giovedì 22 giugno si festeggia San Paolino di Nola San Tommaso Moro che è il protettore degli avvocati San Giovanni mio fratello letteralmente quasi il cognome è diverso vabbè non è letteralmente San Giovanni Fischer vescovo e martire San Niceta di Aquileia vescovo Sant'Albano d'Inghilterra martire i Santi Giulio e Ronne martiri in Bretagna poi abbiamo i Santi 10.000 martiri armeni i Santi Eusebio di Samosata vescovo nel 776 a.C. Olimpia in Grecia si apre la prima edizione dell'Olimpiade che consiste in una gara di corsa lungo il rettilineo di sabbia lungo 192 metri nel 1633 Galilogue di Lei viene costretto ad abbiurare la teoria di Ocente che è confinato ad Arcetri nel 1927 vengono messi in vendita i primi fonografi a moneta antenati il jukebox quindi nel 1955 esce nelle sali cinematografiche il film Il Liglio e il Vagabondo che è il primo film animato Disney in formato Cinemascope che è audio stereofonico mentre nel 1977 esce nelle sali cinematografiche Stato di Tensi Le avventure di Bianca e Berni che è il primo film interamente realizzato dalla generazione di animatori assunti dopo la volta di Walt Disney quindi nessuno di quali ha conosciuto Walt Disney Ragazzi smettete di parlare in chat di IA chiaramente non sapete di cosa state parlando su copyright copiare robe così non ne sapete abbastanza per parlarne quindi vi chiedo di smetterla di parlarne e via che è più complesso di quel che pensate io mi sto tenendo proprio con la briga no no ma è più complesso di quel che pensate è normale pensare certe cose però è molto più complesso di quel che pensate che mi sto tenendo proprio è normale non non sapendo tutte le leggi sul copyright e sulle cose è normale che non sapete è più complesso di quel che pensate non è non è così comunque smettetela di parlarne che siamo passati ad altro dai oggi Giuseppe Mazzini nel 1805 Arthur Wine credo enigmista ideatore del Cruciverba nel 1871 madonna quindi il Cruciverba ha 152 anni no un po' di meno non credo che l'abbia inventato quando è nato però hai ragione scusami lui avrebbe 152 sì fai 100 anni 100 sicuri sì anche di più probabilmente poi Meryl Streep nel 1949 Joe Squillo cantante e condottrice tv nel 1962 Dan Brown lo scrittore di Il Codice da Vinci e Angelo dei Demoni nel 1964 e Giorgio Posotti che è un attore nel 1973 il proverbio di oggi è facile dice a tutto c'è rimedio fuorché ha la morte che è come finché c'è vita c'è speranza è la giornata mondiale delle floreste pluviali la giornata nazionale del bacio la giornata nazionale degli anelli di cipolla la giornata nazionale del limoncello è la giornata nazionale quindi è la giornata nazionale delle notizie positive nei media ne ho finito qui bisogna fare la giornata nazionale per le notizie positive nei media questa è una moto sentite che bella buona vabbè voglio dire bella e buona e ho uso le cose va bene sì Marco prego il tuo momento eccoci allora andiamo subito con una notizia non c'è Ilari Blasi dopo che ieri ne hanno messe tre hanno detto oggi non le mettiamo e abbiamo Sofia Goggia e Massimo Giletti amicizia bollente perché hanno detto di essere amici ma erano a prendere il solo insieme tra l'altro c'è Giletti che ha il costume e pare ce lo abbia Barzotto poi andiamo da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che non è Zagnolo sì sono sposi guarda l'album delle nozze sì Chiara Nasti ha scelto un abito di pizzo bianco e una gonna ampia bene cos'è una gonna ampia che si gonfia un po' un po' gonfia ora mi definisci Barzotto per favore chiede Martina ma se non sai cosa vuol dire Barzotto no Martina non lo farò andiamo avanti ti lascia perdere Marti poi parliamo Ashley Graham in vacanza nel Mediterraneo sfoggia un costume il durrullo sfoggia un costume via l'altro si dice perché si dice un costume Barzotto non sarebbe neanche piporito però vabbè sfoggia un costume via l'altro nel senso che ne hai cambiati no 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 il senso lo so è con costume via l'altro cioè è la frase che non mi convince so cosa vuol dire il significato è che sfoggia un costume via l'altro nessuno lo dice perché nessuno lo fa però si è come dire nessuno lo fa mangi un gelato via l'altro ecco qua è quasi divertente ma mi sono già riempito lo scrotto e andiamo qui tutte le volte a commentare la 12 ore facciamo il count la 12 ore facciamo il count non posso fermare un'intera stazione però non serve neanche commentarlo ogni volta ormai sarà così tutta l'estate allora la 12 ore devo chiudere e morire devo chiudere e morire io vado a riduzione del rumore no no che poi è una merda che quando rido mi si taglia tutto i fichi d'india debuttano all'assai l'ultima nel 95 questo è il primo momento a Marcord presentava Pippo Franco e tra l'altro la prima cosa che hanno fatto erano Capocetto Rosso e il Tenente Colombo no Capo si Capocetto Rosso e il Tenente Colombo non ricordo questo sketch Capocetto Rosso si l'hanno anche rifatto il Tenente Colombo non lo ricordo andiamo avanti con l'ultimo momento a Marcord è anche l'ultima la fine della mia tranche Jerry Cala è il terzo incomodo nel telefilm professione vacanza dell'87 il comico nei panni del capovillaggio Borghini rompe un momento romantico tra Isabella Ferrari e Claudia Mendola me la ricordo questa serie tra l'altro questo telefilm me lo ricordo per il culo ragazzi ne approfitto per andare anche a riempire l'acqua Marco puoi durare un po' di pv adesso facciamo finiamo finiamo la segna scusa è andato via ragazzi ma scusami ma che tempismo del cavolo ogni volta cerco cerco altre notizie dai allora vediamo un po' vi dico un po' di notizie anche che non c'entrano niente per esempio maturità è il giorno del secondo scritto poi Rovigo colpirono la prof con la pistola a pallini promossi due studenti questa poteva essere tranquillamente nella rassegna perché non ho capito la dinamica è il contrario di quell'altro che l'ha coltellata quella l'ha coltellata grazie Jace grazie Jace per i tuoi 80 mesi sei veramente un tesoro grazie poi abbiamo un bimbo di 7 anni ha sparato e ucciso il fratello nel Kentucky questi sono notizi di cronaca nera ragazzi il CEO di Ubisoft ha detto che Nintendo gli ha consigliato di pubblicare Mario e Rabbids Park of Hope sulla console successiva non morirmi per forza mi aspetto la voce per forza gli ha consigliato fa tutto cacare quello che sta uscendo su Switch no ragazzi questa la devo dire mi è scappata dalla rassegna la devo recuperare verità Marco c'è allora Victoria De Maneskina ha messo una foto in bikini Vasco Rossi gli ha commentato Slur perché commetti Slur e i follower gli hanno scritto è una ragazzina poi 70 anni ma poi in bikini è troppo vestita ma possiamo arrestare no tecnicamente è maggiore in entrambi quindi Slur che merda mi fa così schifo perché Slur ma che schifo magari ha sbagliato a digitare solo un typo ha sbagliato a scrivere a scrivere a tutt'altro ha premuto invio per sbaglio ma sono andata recuperare la foto e non c'è più però cioè non lo vedo più il commento e l'aveva cancellato quanti commenti del Brasile ci sono? perché è in Brasile da quello che vedo no è il costume che è brasiliano è verde e oro magari puoi scrivere Sium beh allora lì mi avrebbe fatto già più ridere perché vado a destra leggo Sium di Vasco Rossi mi avrebbe fatto ridere però vabbè si passa al Guess the Game mi sembrerebbe ragazzi un attimo Guess the Game ragazzi è CTR o sembra più un CTR che un Mario Kart credo sia un gioco di kart comunque però non lo so anche CTR non lo so mi serve invece un Mario Kart non è Worms non può essere un Worms no ah no però quella rampa lì è crash Mario Kart 64 potrebbe già più essere fa vedere Mario a me ricorda crash quella rampa di leggo è una palma la palma però non mi dà da crash Mario Kart 64 non è 92 di metà score sono delle belle freccione gialle più da crash Wave Race c'è una L è una L è una L 92% di metà score sono già due immagini con l'acqua però Wave Wave Race uno ha scritto Face mi stanno chiamando al telefono ragazzi devo rispondere non devi rispondere non l'avrei indovinato magari il corriere mi deve portare la pentola c'è scritto di solito a me appare corriere Amazon quando mi chiamo non è possibile ti giuro le ultime due volte mi ha apparso corriere Amazon non credo che possa mi appare corriere Amazon ti giuro lo fa Google non l'ho aggiunto io giuro però io non c'ho magari non è il corriere di Amazon da me il corriere di Amazon arriva no delle volte non c'è non c'è scritto rispondi e vai e ti dire buonasera sono una volta registrato vuoi farmi molti sesso? no non esiste questo sei veloce fai prima cercare il numero su Google prima di rispondere eh ma non avevo voglia metti due secondi vedi subito ma tanto su Google anche se metto il numero di mia zia mi dà truffe telefoniche no non è vero sempre eh vabbè era Wave Race 64 mai visto sto gioco no non me lo non l'avrei indovinato ora mi ricordo del volume giusto non era un vabbè è il 150 ragazzi eh zitti che ascolto è FIFA questo tu lo metti 22 21 FIFA 21 secondo me sono un grande 21 FIFA 21 sì sì me lo ricordavo dici anche tu Rocco Papaleo su Pornabba quanto pare dopo aver fatto la voce registrata del telefono sono 151 i pokemon infatti va bene eh ma uno non vale ragazzi ultime due cosette dai vado su perizona che non ci vado da tanto vado su perizona che da tanto che non ci vado eh no aspetta esce tra l'untizio del comic con di Bergo vediamo chi c'è di ospite c'è Sio vabbè la mostra di Milo Manara proprio la mostra magari non c'è lui c'è solo la mostra va bene ah no qui l'elenco delle mostre che ci sono ok ma come perché l'intero 24 25 17 euro una notizia di Eva Enger Eva Enger ci ha fatto sapere che non ha mai fatto sesso con Rocco Sifredi e Berlusconi la chiamava per nome non lo so Gibo allora non so perché non dovrebbe ti faccio referente di quelli che poi vengono al li ha segnati nel foglietto non lo so però fa lui in caso scrivetemi nel gruppo dei sub taggandomi così mi arriva la notifica vi dico dove sono perché non so neanche che ora arrivo arriverò per mezzogiorno l'una quindi non lo so non so neanche dove ci vengono non posso dirti dove ci becchiamo non so com'è la fiera quindi non so so che alle 3 e mezza la Roby fa il meet and greet quindi in caso ci troviamo possiamo trovare lì a meno un punto di rifermi rompere le balle alla Roby nel meet and greet io voglio salutarla la Roby poi stavo guardando se c'era qualche notice se mi offri l'aperitivo va bene ma non so se arriviamo per l'aperitivo probabilmente arriveremo dopo non lo so sinceramente vi faccio sapere sabato mattina sempre al gruppo sub per chi c'è Jim Ryan non vuole parlare di PS6 con i team di Activision è troppo rischioso eh sì beh ci sta se poi viene acquisita sarebbero eh sì sarebbero concorrenti diretti vabbè che figurati se non hanno comunque degli infiltrati dentro sia una sia l'altra figurati va bene non c'ho nient'altro quindi ragazzi sono le 11 stop ma c'è Michele Posa e Luca Franchini ma perché eh sì per il wrestling sì ho capito e poi c'è cosa di Final Fantasy c'è Cristina D'Avena però mi sta solo venerdì che idea puoi invitare Cristina D'Avena e farla andare di venerdì ma scusami c'è più gente sabato e domenica la fai di venerdì vabbè ragazzi anche di venerdì stop alle situazioni eh va bene chiudo ecco qui perché conoscendo ecco qui